io questa sera stasera sabato sera sono molto contento davvero molto contento perché questa juve ha saputo uscire dal momento di difficoltà e soprattutto non c'è uscita a caso la cosa veramente bella è che sta juve non c'è uscita a caso e adesso ne parliamo e magari nelle prossime ore vi porterò anche un approfondimento tattico però io sono davvero convinto che questa juve abbia un potenziale fuori da ogni limite rispetto alle ultime annate perché questa è una juve che presa per mano e accompagnata diventa grande ragazzi e non lo dico alla luce del 3 a 0 col genua lo dico alla luce di quanto i giocatori cambino in relazione a un determinato tipo di approccio tattico perché tecnicamente questa juve ha dei giocatori forti dal punto di vista tecnico questa juve vanta tantissima tantissima tecnica dal punto di vista tattico nelle ultime partite eravano mancati così come eravano mancati nel primo tempo io non esagero credo nel dire che questo è uno dei peggiori primi tempi che io abbia visto quest'anno e forse in generale uno dei peggiori primi tempi che abbia visto della juve perché il primo tempo è stato qualcosa di aberrante bassissimo livello tecnico e tattico è bastato cambiare un paio di cose che poi analizzeremo poi che analizzeremo anche alla veloce in questo video ma per il dettaglio aspettiamo un attimo però ragazzi questa juve o ne fa 0 o ne fa 3 questa è l'unica cosa che mi sono sentito di urlare all'esultanza del terzo gol di con sei sao una juve che parte in campionato con sei sei partite senza prendere gol e che bello cioè questa partita è fondamentale per più motivi ancora una volta senza gol presi e questo è davvero fondamentale apro e chiudo una parentesi una juve che comunque anche un po ballato guarda caso oggi che ha giocato danilo è una coincidenza a me danilo non è piaciuto tanto e si capisce perché in questo momento parte molto dietro le gerarchie dietro anche a tanti giocatori che non ti saresti mai aspettato come per dire savona non credo sia una coincidenza ma ne parleremo era una juve che veniva da tre pareggi per 0 a 0 tre punti in tre partite senza aver mai segnato gol troppo brutto per essere vero bisognava invertire la tendenza bisognava dare uno scossone ed ecco qua che la juve fa tre gol e tre gol sono importanti soprattutto se due vengano ad usan vlaovic che non ha fatto una partita perfetta nel primo tempo credo abbia toccato due palloni e che uno l'abbia sbagliato e che l'altro sia stata una punizione quindi un calcio lo fermo il primo tempo di vlaovic è stato sta roba qui sulla falsa riga del primo tempo di napoli ma nel secondo tempo un giocatore molto portato per questo tipo di calcio la differenza è che non gli veniva richiesto di andare nella zona di tre quarti di abbassarsi per gestire il pallone scaricarlo è il perché ci arriviamo dopo quando poi un giocatore in difficoltà ti fa due gol soprattutto se un attaccante soprattutto se un bomber ha secolo a troppo tempo è una gran notizia è una notizia fantastica perché il rischio era di ritrovarsi ancora una volta a inseguire un'idea tattica molto interessante secondo me ma che in questo momento non stava pagando non stava funzionando già c'è stata una prima modifica tattica a questa juve perché oggi la juventus era veramente un 4 1 4 1 che a volte staccava un giocatore nella linea da 4 nel primo tempo che era ruì ma non andava come cambiaso a prendersi la costruzione centrale a due tra l'altro stasera avevamo fagioli in quella posizione né turam né locatelli giocatori che immaginavamo di vedere lì invece c'era fagioli ruì male nel primo tempo proprio dal punto di vista tecnico ma anche perché la juve non era messa bene dal punto di vista tattico e quindi cos'è cambiato che nel 4 1 4 1 questa volta avevamo meccenni a sinistra e con meners a destra a differenza di quanto visto nelle precedenti puntate dove con meners e mccenni andavano sul loro piede forte tiago motta ha capito che perseverare sarebbe stato diabolico perché errare umano ma perseverare diabolico e siamo andati ancora una volta con questo possesso palla molto sterile la juventus chiude il primo tempo con quasi il 70 per cento del possesso palla ma senza mai tirare in porta gestendo male gli spazi senza riuscire ad andare al tiro la conclusione allora cosa succede zero cambi perché mattia comotta non ha fatto cambi nell'intervallo ma un nuovo modo di interpretare e disegnare la juve ed è quello che ha fatto la differenza e questo è un concetto che ho provato a spiegarvi a più riprese a volte non è il giocatore scarso o il giocatore non in giornata o comunque non solo perché a volte sono giuste queste letture ma il come interpreti la partita con quel singolo calciatore e tiago motta è stato molto bravo e molto umile a fare un passo indietro rispetto alla sua idea che ripeto interessante ma che oggi difficilmente perseguibile perché se la juventus gira palla così lentamente e al piccolo trotto non avrai la possibilità di riempire bene lo spazio con delle rotazioni dentro il campo e allora tanto vale scegliere una cosa facile banale ma che funziona il genoa difendeva 5 4 1 benissimo vado a raddoppiare sugli esterni vado ad attaccare con due esterne sul loro singolo che si difendono a 5 ci sarà soltanto un esterno lì a difesa o se ci vengono giù quelli del centrocampo a 4 saremo almeno quantomeno in parità numerica e quindi invertiamoli danilo e calulu danilo torna centrale di difesa calulu si prende quello spazio perché un giocatore con più gamba è più giovane e più possibilità anche non possesso di fare determinati tagli di fare determinati movimenti me ne ricordo uno meraviglioso a cercare di smarcare lo spazio per nico gonzalez che non ha funzionato perché poi siamo andati a cercare calulu che aveva fatto semplicemente il movimento a portarvi all'uomo ma sono cose che arriveranno sono cose che sicuramente la juve riuscirà a mettere a posto il problema prima era che fagioli era troppo solo nessun problema ora co meners e scusate mckenny fa un passo indietro e va ad aiutarlo nel palleggio prima era fagioli contro tutti ora c'è un giocatore come mckenny che è generoso va ad aiutarlo lì sulla mediana ma soprattutto quanto ci eravamo stancati di un con me nel sazzonzo per il campo per vie laterali quella non è e non poteva essere la sua posizione anche perché lì fino a questo momento abbiamo chiesto a vlaovici di andare il centrocampo lo andavamo a svuotare le mezziali erano quasi degli esterni quasi vicino agli esterni e sulla tre quarti la palla non la giocavamo mai allora mettiamo la qualità di co meners alla servizio della tre quarti chiediamo a vlaovici di non preoccuparsi nella costruzione ma soltanto del taglio in profondità sono bastati 90 secondi di questa juve è bastato un cambio campo dalla parte opposta mi pare di nico gonzalez che va a cercare ildis trova la mano di devinter calcio di rigore un episodio sì certo sicuramente ma una juve molto convincente in quel frangente in quei 90 secondi meno di due minuti sono bastati una juventus più pimpante che va a occupare meglio gli spazi che utilizza meglio gli esterni e che fa cambio campo perfetto questo ci serve a noi con la qualità di co meners a disposizione sulla tre quarti è proprio co meners che serve a vlaovici quell'assist meraviglioso per il gol del 2 a 0 è co meners che è lì in area di rigore e poi lo sbaglia perché sbaglia un gol da due metri però era lì è co meners che in area fa quel tacco che poi viene preso sì da gollini ma l'idea c'è è co meners che fa quel velo per con se sa o è co meners è il trequartista io sono molto convinto che tiago motta in questa scelta di andare 4 2 3 1 fisso ed è la prima vera volta che vediamo la juventus con un 4 2 3 1 fisso per raddoppiare sugli esterni era quasi un 4 2 4 se vogliamo un po come il mirano ha messo in difficoltà l'inter nel derby e come si è ripresentato ieri sera san siro contro il lecce ma sono davvero convinto che tiago motta abbia scavato un po nel suo passato quando giocava nell'inter e che si è andato a rispolverare il 4 2 3 1 con cui ha vinto il triplete e co meners semplicemente ha fatto lo schneider quel giocatore di raccordo che serviva necessario per raggiungere qualità tra l'attacco dove c'era un giocatore come milito che è diverso da vlaovic ma qui se dai la palla in profondità fa male è un centrocampo che a due era necessario avere polmoni cuore ma anche tecnica sono davvero convinto che abbia pensato a schneider nel mettere con meners che è la sua posizione è quella la sua casellina non sono ancora convinto che sia la casellina di ildis perché per me la juve deve arrivare a un certo punto con ildis e con meners tutti e due sulla tre quarti dietro vlaovic ma per quello c'è necessità di avere un giropalla più veloce un giropalla più intenso ed efficace oggi la juventus domina sul possesso palla questo è un dato ed è anche un'arma con quella juventus ha mantenuto la porta inviolata fino ad oggi è un dato di fatto però la juventus ancora non riesce a occupare bene gli spazi con i tempi giusti e allora non andiamo a ruotare per il campo non andiamo a ruotare rimaniamo nelle nostre posizioni interpretiamo bene il nostro ruolo non ragioniamo solo per spazi che è giusto perché ragionare per spazi è essere all'avanguardia ma se ancora non riesci ad occuparli con le rotazioni preoccupati del tuo ruolo associato al tuo spazio ed è questo che è successo nel secondo tempo è questo che ha cambiato la juve e la juve è stata convincente la juve potrebbe assegnare anche più di tre gol nel secondo tempo questo è il dato da registrare e probabilmente anche senza cambiare gli interpreti che sono stati cambiati magari per necessità per turnover perché il risultato è al sicuro perché c'è la champions eccetera eccetera ma è stata una juventus già rimaneggiata dall'inizio nelle scelte di formazione proprio perché c'è una partita molto importante in coppa dei campioni da giocare e alcuni giocatori dovevano tirare fiato interessantissima la gestione di douglas luiz un giocatore che entra sempre solo quando la juventus è in vantaggio della serie palla in banca viene a togliermela la gestione la faccio io sono io che ho detto i ritmi eppure anche lì douglas luiz ha fatto delle giocate veramente importanti c'è stata una storia in particolare che mi è piaciuta tantissimo quella in cui douglas luiz serve il palone di ritorno a savona che va a prendersi quello spazio per crossare mette un bellissimo cross poi purtroppo vlaovic con la testa molto quadrata è riuscito a sbagliarlo e anche lui si è un po dispiaciuto di questa cosa ma oggi la juventus questo lo sa fare questo lo può fare lo sa fare e sforna prestazioni di alto livello perché poi occupando bene gli spazi la juve è riuscita andare in intensità ed è una cosa che avevamo preso in considerazione a fine primo tempo nella live su twitch ed è proprio da qui che andremo a partire per snocciolare un'analisi che secondo me nasconde la vera chiave per riuscire a far segnare alla juventus tanti gol in ogni partita perché un problema c'era e un problema è stato risolto come facciamo se le altre si chiudono perché empoli roma napoli e genoa nel primo tempo quattro squadre chiuso tutte le linee di passaggio tutti dietro la linea del pallone 11 giocatori a difendere non sappiamo fare a sradicare a scassinare la difesa avversaria non ci riusciamo e allora un po più di coraggio e allora un'interpretazione differente della juventus del modulo e degli spazi ed è sono bastati 90 secondi per portare in campo una juventus completamente differente nelle intenzioni rispetto a quella moscia brutta inconcludente noiosa del primo tempo che giustamente non aveva sbloccato la partita è un punto di partenza per tanti motivi da vlaovic che si sblocca a conveners che prende il suo spazio a tiago motta che cambia e al fatto che era necessario non pareggiare portare tre punti a casa prepararsi bene alla champions e soprattutto tornare al gol quindi questa è una serata importante amici miei ragazzi è una serata che potrebbe aver cambiato la juve speriamo incrociamo le dita sono molto molto contento della reazione dopo un primo tempo pessimo fatemi sapere le vostre considerazioni qui sotto nei commenti ciao